Dovremmo fare, come in Sardegna, testimonianza di Celeste Goletto, detto Celeste Ciappin, nato a Rocca Sparvera, detto Ciappin, classe 1937, contadino, poi operaio e dal 1974 di nuovo contadino. La nostra terra è sempre stata poca. Avevo appena imparato ad abbottonarmi i pantaloni e facevo già il boscaiolo a guadagnarmi la pagnotta, a buttare giù piante ai castagni, poi il servizio militare, una perdita di tempo, un danno e basta. Ritorno a casa e vedo che le rendite diminuiscono. Mi sposo, trovo un lavoro all'italcementi, all'insaccamento, mangiare polvere a volontà e fatica. La respirazione è faticosa, ne vedo tanti che restano pieni di polvere, sono ancora lontani dalla pensione e hanno già la siricosi. Non sembra, ma tutti i giorni sempre polvere, sempre polvere. Danno un po' di indennità a polvere, ma la paga non è nemmeno tanto alta, è tra le più basse della zona. Pensare che i padroni spaccano un po' di pietra e guadagnano milioni e milioni al giorno, ma se devono aumentare la paga di una lira. Quando arrivo alla cementeria, faccio un giro attorno al tavolo, metto un pezzo di pane nella sacca, prendo il bariun e su a ritirare il fieno. La mia giornata comincia alle 5 del mattino e finisce alle 10 di sera. Bisogna tirarla alla vita fino a quando sarò rovinato e dopo addio. Ho moglie e figli e per tirare avanti devo fare questa vita. Viaggiando su e giù con la moto risparmio un'ora di mulattiera, ma quando piove o nevica devo lasciare la moto a Rocca Sparvera e arrangiarmi a piedi. Parto alle 4 del mattino e rientro a casa che è di nuovo notte. Vi dico solo che ho già provato la vita com'è. Io leggo i giornaletti della Coltivatori che riceve mio padre, ci prendono anche in giro, scrivono che non ci devono più essere case rurali senza luce elettrica e senza strada. Ma almeno non le dicano queste cose, non si accontentano di farci tribolare, ci prendono anche in giro. Siamo troppo rassegnati, scioperi non ne facciamo, ribellarci non ci ribelliamo. Qui ci sono ancora quattro persone anziane che potrebbero rimediare un po' di soldi con la raccolta dei funghi. Oh sì, deve ancora nascere il fungo che c'è già l'invasione dei turisti e il governo non prende provvedimenti. Dovremmo fare come Sardegna, dovrebbe mettersi qualcuno a fare il brigante e qui dovrebbe uscire qualche elemento così. Da cominciare ad accendere qualche focolaio per fargliela capire che vede vedervi in prossima, sarà un po' di giorni edizitando il contingent genera pronto le concetto delle cose. Llegate di apprendere chi oggete le conglise la propria delle cose che siete da grazie. E oscura che vedendo bene, la bulla istra costruzione delle mezclature, ma ne dovrebbe essere buشận. Grazie a tutti